Nell'ambito dei servizi digitali, quindi della digitalizzazione, hardware e software, in uno dei progetti della strategia nazionale delle aree interne è stato previsto che venisse consegnato questo kit completo di computer con monitor, notebook e tanti altri accessori ad ogni singolo comune che rientrasse nel compresorio della nostra comunità montana. È una sfida che ormai era partita già da lontano, quella della digitalizzazione e soprattutto di mettere in rete tutti quelli che sono in comuni con la comunità montana. Sfida che è stata ancora più accelerata nel periodo del Covid, stiamo vedendo che nell'arco effettivamente di uno o due anni c'è stata una completa ed assoluta trasformazione. Stamattina consegniamo questi computer ad ogni singolo, questa strumentazione elettronica ad ogni singolo comune e credo che sia un passo in avanti per quel processo anche di unità sotto questo punto di vista di un intero compresorio per il raggiungimento di sfide importanti che riguarderanno tutta la comunità montana, non solo la comunità montana, nel prossimo futuro. Un augurio a tutti e speriamo che il nostro territorio anche attraverso questo tipo di azioni possa guardare veramente lontano e nel futuro.